Amante a bufera giudiziaria sul voto, inchiesta della procura di Paola sulle elezioni dell'11 giugno scorso, arrestati l'ex sindaco e consigliere regionale Franco Larupa e il consigliere comunale Marcello Sucevole, le accuse di voto di scambio e tentata estorsione. La depurazione in tilt impietosa alla situazione fotografata dall'ultimo dossier di Goletta Verde, le criticità rilevate lungo le coste calabresi lo scorso anno sono rimaste inalterate e così il mare continua a soffrire. Un altro affronto ad Oliverio non scatta l'attesa operazione di chiarezza sul futuro della sanità in Calabria, il governatore resta all'angolo, alla vigilia di importanti tappe istituzionali e dell'avvio della fase congressuale nel PD. Una spia per la prevenzione e la grande scoperta del luminare calabrese Franco Martino dallo studio del sangue dei bambini, la medicina fa così importanti i passi in avanti per combattere le malattie cardiovascolari. Goran Bregovici incanta il Politeama, il grande musicista di Sarajevo pone il suo sigilio al prequel del festival d'autunno, un concerto travolgente scandito da ritmi e suoni che conquistano più generazioni. Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento dedicato all'informazione. La cronaca in apertura parte dalla procura di Paola ed è una vera e propria tempesta giudiziaria quella che si abbatte sulle recenti elezioni amministrative ad Amantea. Voto di scambio ed estorsione le accuse che portano all'arresto dell'ex sindaco e consigliere regionale La Rupa e del consigliere comunale Marcello Socevole. Vediamo. Se la tua ragazza vuole ancora lavorare, lei e la sua famiglia devono votare per me. Una minaccia neanche troppo velata, costata l'arresto al consigliere comunale di Amantea Marcello Socevole ed a Franco La Rupa, ex sindaco e sostenitore della lista nella quale lo stesso Socevole è stato poi eletto lo scorso 11 giugno. Voto di scambio e tentata estorsione in concorso, questa l'accusa contestata dal procuratore di Paola Pierpaolo Bruni e dal sostituto titolare delle indagini Anna Chiara Fasano. L'ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal GIP Rosa Maria Mesiti ed eseguita all'alba dei carabinieri del comando provinciale di Cosenza. Ad incastrare i due esponenti politici ci sarebbe una registrazione. In cambio del voto Socevole e La Rupa avrebbero consentito il rinnovo alla ragazza di un contratto di lavoro a termine in una scuola materna gestita dal comune di Amantea attraverso una cooperativa. Socevole avrebbe poi tentato di impedire la divulgazione della registrazione, minacciando i genitori della giovane. Per questo è accusato anche del veato di tentata violenza privata. Il sindaco di Amantea, Mario Pizzino, parla di accuse gravi ma di essere fiducioso dell'innocenza del consigliere comunale, mentre i Cinque Stelle chiedono le dimissioni in blocco dell'amministrazione. Franco La Rupa, ex consigliere regionale, aveva già avuto problemi con la giustizia. Nel 2007 venne coinvolto nell'operazione Nepezia, dalla quale fu assolto. Poi fu la volta dell'operazione Omnia. Secondo l'accusa, aveva pagato 15.000 euro alla cosca cassanese dei Fora Stefano in cambio di un pacchetto di voti alle regionali del 2005. La Cassazione ha annullato con rinvio le condanne inflitte in primo e secondo grado. Salvatore Bruno per la Cineus 24. E resta critica la situazione della depurazione calabrese. Quanto emerge dal monitoraggio delle acque effettuato lungo le coste calabresi da Goletta Verde di Lega Ambiente? I siti, ripetiamo, siti che sono le foci dei fiumi o le scariche dei depuratori, come risultavano inquinati l'anno scorso e continuano a risultare inquinate anche quest'anno. Anche quest'anno, quindi, quella di Goletta Verde è una fotografia che presenta diverse criticità nei sistemi depurativi calabresi. Il monitoraggio svolto lungo le coste da un'equipe tecnica della storica campagna di Lega Ambiente di monitoraggio e informazione sullo stato di salute delle coste e del mare è stato presentato a Catanzaro insieme al sindacato di medici italiani con tanto di reportage fotografico realizzato da Anna Paola Montuoro che mostra foci di fiumi, spiagge e torrenti che diventano veicoli principali di contaminazione batterica. Scarichi di domestici ma anche ancora in civiltà dei cittadini che sulla spiaggia fanno un abbandono che noi chiamiamo consapevole perché chi abbandona i rifiuti è consapevole e poi ci sono le attività correrate, quindi la pesca, molto del mondo dell'agricoltura perché ovviamente attraverso i nostri fiumi li troviamo tutto sulle nostre spiagge. Questo che vuol dire perché è un fenomeno pericoloso, perché le plastiche galleggianti, i mare in litter si deteriorano con il tempo e formano delle piccole microplastiche che sfuggono all'occhio dell'uomo ma che non sfuggono ai pesci che vengono scambiati per plankton. Questo vuol dire che tanti studi lo dimostrano che la plastica finisce nella nostra catena alimentare. Rossella Galati per l'AC News 24 E adesso la notizia di cronaca. Nelle prime ore di oggi il commissariato di polizia di stato di Lamezia Terme e della squadra mobile di Catanzaro coadiuvati dal reparto prevenzione crimine di Vibo Valencia ha eseguito un provvedimento di custodia cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di Vincenzo Antonio Fundoni, 35 anni, residente a San Pietro Ammaida, Costanzo Fundoni, 60 anni di San Pietro Ammaida, Domenico Mazzotta, 23 anni di Coringa, Giuseppe Costantino, 22 anni di San Pietro Ammaida. Tutti sono ritenuti responsabili di avere in più occasioni venduto e detenuto sostanza stupefacente del tipo di cocaina, eroina e marijuana nei comuni di Maida, Coringa e San Pietro Ammaida. Restiamo alla cronaca. Avrebbe violato la normativa antiriciclaggio per svariate centinaia di migliaia di euro a favore di decine di utenti. Per tale ragione la Guardia di Finanza ha sequestrato un'agenzia di manetransfer a Reggio Calabria. In poco più di due anni di attività aveva effettuato oltre 29 mila operazioni, movimentando somme di denaro pari ad oltre 7 milioni di euro. Ma dietro questo exploit commerciale, secondo la Guardia di Finanza, si celava una reiterata violazione della normativa antiriciclaggio. Per questa ragione le fiamme gialle, su disposizione del GIP di Reggio Calabria e su richiesta della Procura della Repubblica, hanno sequestrato l'azienda GeoCity, esercente l'attività di money transfer riconducibile ad una cittadina georgiana, Nana Porchize, di 44 anni, che ora deve rispondere, assieme ad altre due persone, della violazione della legge antiriciclaggio. I finanzieri hanno accertato, come l'agenzia avesse omesso di individuare le generalità del titolare effettivo di almeno 254 operazioni, ossia del reale beneficiario dei trasferimenti. Fra le omissioni compare anche quella della verifica dei clienti per 316 operazioni di trasferimento denaro pari a circa 200 mila euro, nonché l'inesatta registrazione e la mancata conservazione dei dati riguardanti 97 casi per importi superiori a 42 mila euro. Particolarmente grave risulta poi l'omessa segnalazione di operazioni sospette per trasferimento all'estero di contante. Le fiamme gialle hanno appurato un meccanismo fraudolento affinché non fosse superato l'importo limite giornaliero consentito dalla legge, ossia mille euro. Le somme di denaro venivano frazionate come fossero importi singoli, così da non destare sospetti. Ben 535 sono state le operazioni di questo genere emerse dai controlli per complessivi 558 mila euro. Consolato Minniti per la CNews 24. L'emergenza incendi e le forze dell'ordine che non restano con le mani in mano. I carabinieri di Gioia Tauro hanno arrestato un uomo di 51 anni colto mentre tentava di dar fuoco ad alcune sterpaglie vicino ad un'azienda di bombone GPL. Sebbene l'emergenza incendi stia dando un breve momento di tregua dopo i giorni nefasti della settimana scorsa nella piana di Gioia Tauro c'è ancora qualche piromane che prova ad agire pensando di rimanere impunito. Ma questa volta i carabinieri lo hanno colto in flagranza e arrestato. Si tratta di Giovanni De Leo, 51 anni. Il suo gesto poteva avere conseguenze molto gravi considerato che le sterpaie si trovavano a poca distanza da una ditta di distribuzione di bombole per riscaldamento e GPL. Fondamentale dunque l'azione tempestiva degli uomini diretti dal capitano Gabriele Lombardo, comandante della compagnia di Gioia Tauro. I carabinieri che erano impegnati in un normale servizio di controllo del territorio sono stati attirati da una colonna di fumo che si sollevava da un terreno comunale ubicato lungo un'arterea stradale importante della piana di Gioia Tauro, ovvero la strada statale 18. Attirati e attratti da questa colonna di fumo si sono avvicinati e hanno trovato il soggetto mentre dava fuoco ad alcune stradale. Alla vista dei militari l'uomo si è dato alla fuga ma dopo un breve inseguimento a piedi è stato bloccato e giocato nel resto. De Leo dopo le formalità del caso è stato sottoposto a rito direttissimo, l'arresto è stato convalidato dall'autorità giudiziaria di Palmi e l'uomo si trova adesso ai domiciliari nella sua abitazione. Consolato Minniti per la CNews24. E restiamo in tema perché da qualche ora a Catanzaro è in corso un rogo che partito dalla galleria del San Sineto si è steso rapidamente verso le abitazioni del quartiere Cavite, verso Viale dei Filippi. Una colonna di fumo è visibile all'orizzonte e da diverse ore sono al lavoro una squadra di Vigi del Fuoco e di Catanzaro supportati da una squadra antincendio boschivi. Il rogo si è rapidamente esteso interessando anche l'area alle spalle, di Via Lombardi. Disaggi sono stati registrati in particolare per l'intensità del fumo, per le abitazioni e per il polifunzionale della polizia. E la politica slitta l'interrogazione parlamentare che avrebbe dovuto fare chiarezza sul futuro della sanità in Calabria. L'attenzione nel Partito Democratico è alle stelle, proprio mentre si avvicinano fondamentali appuntamenti istituzionali e si è alla vigilia poi della stagione congressuale. Un altro sgarbo al Presidente della Giunta. Il Governo non risponderà all'interrogazione parlamentare che i deputati del PD calabrese avevano presentato per chiedere l'UMI sulla gestione della sanità. Interrogazione ritenuta fondamentale dopo la decisione del Consiglio dei Ministri di decretare la fine del commissariamento in Campania senza far nessun cenno alla nostra regione. E seppur è vero che in Campania c'è una situazione differente con i commissari già dimissionari, mentre in Calabria Oscura è più in sella che mai, Oliverio avrebbe voluto risposte precise, con il sostegno dei parlamentari democrat. Ancora non c'è chiarezza sulle ragioni del mancato inserimento dell'interrogazione, ma di sicuro Oliverio, a Roma da qualche giorno, non l'ha presa per nulla bene. Inevitabile che la tensione nel PD sia adesso alle stelle e che con tutta probabilità si possa rischiare l'implosione proprio in un momento delicatissimo. La legislatura regionale ha appena superato il giro di Boa, c'è l'ufficio di presidenza di Palazzo Campanella a rinnovare, la Giunta ha bisogno di qualche aggiustamento e si è alla vigilia della stagione congressuale. Questa ulteriore presa di distanza del governo Gentiloni da Mario Oliverio potrebbe essere la goccia che fa traboccare il vaso e innesca dinamiche al momento imprevedibili. Tanto che ogni attività in vista dei prossimi appuntamenti è stata sospesa e più di qualcuno inizia a ipotizzare che stando così le cose la quadra non si riuscirà a trovare neanche per la fine del mese. Il che sarebbe una vera e propria iattura per una legislatura che fin qui non è certo stata esaltante. Riccardo Tripepi per la CNews24. Presentata questa mattina al Consiglio regionale la proposta di legge politiche per i giovani che mira a favorire una serie di servizi per contrastare la disoccupazione e la fuga di cervelli. Favorire servizi di welfare, cultura, mobilità e ambiente. Questo alla base della proposta di legge politiche per i giovani presentata a Palazzo Campanella dal presidente del gruppo regionale La Sinistra Giovanni Lucera. Destinatari saranno persone tra i 16 e 35 anni residenti nel territorio regionale anche se solo per motivi di studio o di lavoro. Dall'orientamento professionale fino alla coesione sociale. 24 punti per una proposta ambiziosa che mira anche a maggiore partecipazione alla vita pubblica e al Parlamento regionale. È una proposta di legge che mette al centro la questione del lavoro e dei giovani in Calabria. Una regione che negli ultimi censimenti mette circa il 50% dei giovani sono disoccupati e non hanno una prospettiva di lavoro. Abbiamo proposto nell'articolo 8 della legge un osservatorio dei giovani sul lavoro e una consulta dei giovani per quanto riguarda l'attivazione di una nuova e di una programmazione diversa che la Calabria fino ad oggi non ha mai avuto. Nel breve termine quali sono gli obiettivi? Gli obiettivi sono di sia una parte di intervenire con i fondi comunitari europei, una parte di intervenire con il patto per il sud e una parte con il bilancio regionale per iniziare una nuova programmazione sul lavoro e sui giochi. Dominella Trunfio per la Cineos 24. Dorina Bianchi, sottosegretario al turismo e alla cultura, ha lanciato da Soveria Mannelli tre proposte di sviluppo per un territorio che ha detto nonostante la sua posizione geografica ha avuto una straordinaria capacità di lavorare bene su cultura e impresa. Trasformare i punti deboli in punti di forza è quello che ha fatto e che continua a fare il comune di Soveria Mannelli. Lo ha sottolineato il vice sindaco Mario Caligiuri presentando il comune nel corso dell'incontro che si è svolto nella sala consigliare alla presenza del sottosegretario al turismo e alla cultura Dorina Bianchi. Un territorio ricco di potenzialità anche per il consigliere con delega allo sviluppo locale Florindo Rubettino che ha posto l'accento sulla necessità di valorizzare il turismo esperienziale e il turismo delle produzioni. Soveria Mannelli è un bellissimo paese che tra l'altro ha avuto la capacità in tanti anni di lavorare sulla sua parte culturale e sulla parte imprenditoriale, pur essendo un paese dell'entroterra è riuscito a conservare un tessuto produttivo importante. Una descrizione a 360 gradi quindi dalla quale sono scaturite idee per avviare un percorso concreto di collaborazione tra Ministero e Comune che guardi soprattutto a nuove opportunità di lavoro per i giovani. Tre le proposte del sottosegretario Bianchi sulle quali bisognerà puntare. È sicuramente uno dei comuni più informatizzati d'Italia e da qui possiamo partire quindi valorizzare le start-up. Altra cosa importante è il turismo in libertà, cioè tutto quel turismo che tramite i caravan hanno la possibilità di decidere di soggiornare in percorsi alternativi. Un altro ambito è quello della tradizione e quindi la capacità di puntare sull'artigianato di qualità che qui a Soveria esiste. Rostella Galati per l'AC News 24. Parliamo adesso di ambiente e degrado urbano. Questa mattina stante la condizione in cui versa il paese si è registrata una clamorosa protesta a Nicotera dove i cittadini hanno addirittura occupato il Comune. Tornano ad alzare i toni a Nicotera gli attivisti del Movimento 14 luglio. Dopo le battaglie sull'acqua potabile e sull'inquinamento del mare i cittadini sono tornati ad occupare il palazzo municipale in protesta con la terna commissariale, denunciando le criticità ambientali in cui versa il Comune capoluogo e la sua principale frazione marina. Chiediamo un'interlocuzione che vengano ascoltate le ragioni degli esercenti e dei cittadini per interventi piccoli e grandi che riguardano l'ospitalità, il decoro, la vivibilità della marina che al momento va peggiorando di giorno in giorno ed è lasciata visibilmente all'abbandono. Non è ammissibile che chi combatte per riprendere in mano la situazione, rilanciare la località e salvare la stagione, venga da un lato abbandonato e dall'altro vessato con interventi a più in un posto. Nicotera è un posto che noi facciamo il possibile per rendere vivo e ospitale. Ci sono eventi di grande interesse e pregio dal punto di vista artistico, teatro, musica. Andate a vedere i nostri programmi e per quanto possibile noi interveremo anche per il decoro, ma non accettiamo questa latitanza e questa mancanza di ascolto. Davibbo Valencia per la Cinews 24. E ora voltiamo pagina, medicina e salute, davvero una grande scoperta, quella di un medico scienziato calabrese di Chiarafama, il professore Enrico Franco Martino, in tema di prevenzione delle malattie, in particolare quelle cardiovascolari. Una volta si diceva che l'aterosclerosi fosse un problema dell'anziano e dell'adulto. Non è vero. Sia studiosi americani e sia i miei studi hanno dimostrato che l'aterosclerosi è un problema pediatrico, anzi può cominciare a formarsi già in utero. Una scoperta che potrebbe segnare una svolta nella diagnosi precoce dei rischi cardiovascolari. Pubblicata sull'ultimo numero di Clinical Science è figlia di una ricerca del professor Franco Martino, luminare calabrese, di pediatria e neuropsichiatria infantile. Docente della prima facoltà di medicina e chirurgia della Sapienza, da ben dieci anni è impegnato nello studio dell'ipercolesterolemia in età pediatrica, avviando anche una collaborazione con l'Università Magna Grecia di Catanzaro. Egli ha scoperto una sostanza nel sangue dei bambini ipercolesterolemici chiamata microRNA 200C, che rappresenta la chiave di volta per la diagnosi precoce di diverse patologie. Il professor Martino, in particolare negli ultimi anni, ha indirizzato le proprie ricerche sulle conseguenze dell'interazione tra fattori ambientali e fattori genetici già nell'età gestazionale, quali fattori responsabili dell'aterosclerosi e delle malattie cardiovascolari, pervenendo alla conclusione che i microRNA, perché individuati nel nucleo centrale delle cellule, sono in grado di modificare globalmente il destino delle cellule stesse, cambiandole le funzioni, regolandone la specializzazione e stimolandone la proliferazione. In pratica, il luminare calabrese ha scoperto nei bambini la spia per l'insorgenza di diverse condizioni patologiche, iniziando appunto dalle malattie cardiovascolari. La conseguenza della scoperta è che queste sostanze possono essere utilizzate per una diagnosi precoce, in uno stadio in cui ancora le manifestazioni della malattia, in particolare l'infarto e l'ictus, non ci sono. E poi possono essere utilizzate nel futuro come target terapeutici, perché andando a bloccare questi microRNA, si evita che ci sia la progressione della disfunzione endoteliale, cioè dire dall'alterazione delle pareti delle arterie. Questi aumentano nei bambini ipercolesterolemici, indotti dal colesterolo. Allora, se noi individuiamo i bambini con colesterolo alto, li trattiamo abbassando il colesterolo, è naturale che queste sostanze non si formano oppure si formano in quantità tali da non provocare danni alle pareti delle arterie. E quindi facciamo una prevenzione cardiovascolare già dall'età pediatrica. Potremmo abbassare l'incidenza delle malattie cardiovascolari, che sono oggi 44% per la mortalità, più delle mortalità per tumori che sono del 30%. Una festa delle musica al Teatro Politeama di Catanzaro con Goran Bregovic, ospite del Festival d'Autunno. È stato difficile trattenersi davanti ai ritmi incalzanti della musica di Goran Bregovic e della sua Wedding and Funerals Band, ospiti del Festival d'Autunno di Catanzaro, diretto da Antonietta Santa Croce. E così il Teatro Politeama diventa cornice di un concerto travolgente, privo di effetti speciali ma ricco di energia. Musiche popolari, quelle che caratterizzano i concerti del poliedrico artista di Sarajevo, autore tra l'altro di musiche per il teatro e per il cinema, che arriva a Catanzaro dopo le date di New York, Chicago e Parigi. Musicisti e coriste hanno animato con Bregovic quella che è stata una vera festa del ritmo, con un connubio perfetto tra la forza della tradizione balcanica e il gusto per le danze e le atmosfere popolari. Si apre all'interculturalità Bregovic e la sua musica riflette la sua attenzione verso le minoranze e la centralità del dialogo, concetto ripreso anche nel suo nuovo album Three Letters from Sarajevo. La nostra civilizzazione è la civilizzazione delle migrati, se non in storia, se italiani non ci muovevano, se tedeschi non ci muovevano, se arabi non ci muovevano, noi saranno ancora sugli alberi mangiando le banane, allora è una cosa antistorica, loro portano qualcosa per noi, penso. Tutto pronto ad Amantea per la tredicesima edizione della Grotta dei Desideri, il concorso di moda, diventato uno degli appuntamenti più attesi dell'estate calabrese. The First Date, la conferenza stampa di apertura dell'evento, ha dato ufficialmente il via ad Amantea la tredicesima edizione della Grotta dei Desideri, la kermesse diretta da Ernesto Pastore, appuntamento consolidato dell'estate calabrese. Il concorso di moda e cultura ha da tempo conquistato la ribalta nazionale per la qualità degli stilisti in gare e per la competenza della giuria, ed anche per il parterre di ospiti che animano le diverse serate in programma. Quest'anno si registra il gradito ritorno di Milena Miconi, ci saranno il tuffatore Giovanni Tocci, reduce dal bronzo conquistato ai mondiali di Budapest e la conduttrice della domenica sportiva Giorgia Cardinaletti. Il programma è stato reso noto da Amantea, all'iniziativa sono intervenuti organizzatori sponsor e l'amministrazione comunale. È una kermesse che mette insieme sinergie capaci di portare avanti le potenzialità di Amantea e penso che raggiungeremo un traguardo sicuramente interessante. Fa conoscere Amantea al di là dei confini, ci sono tante figure che ruotano intorno al mondo della moda però spesso non sono ben visibili, ben riconosciute e apprezzate nel loro lavoro. Questa Grotta dei Desideri dà la possibilità a ognuno di loro di potersi far conoscere. La prima novità è il calendario, un calendario amplissimo che conta appunto sei eventi che si snoderanno da qui fino alla fine del mese di ottobre. Quattro serate dall'1 al 4 agosto, la Fashion Dinner giorno 2, la serata di anteprima giorno 1, la serata dalla parte delle donne il 3 e la serata il Gran Galà il 4. Poi la consegna delle borse di studio nel municipio di Cariati sulla costa Ionica e la gran conclusione a Roma presso l'Accademia delle Belle Arti. E poi la seconda novità, l'aumento delle borse di studio nei confronti degli studenti, 3.800 euro dedicati agli stilisti che partecipano alla Grotta, uno dei contest con il monte premi più alto. Boom di iscrizioni, avete faticato non poco per selezionare poi i finalisti? Un lavoro durato esattamente 30 giorni, un lavoro certosino coordinato dal presidente di giuria Graziano Amadori, coadiuvato da una serie di esperti, una classifica ristretta, 16 stilisti selezionati di 12 regioni d'Italia diverse, più una ragazza che viene dalla Nigeria. Chi partecipa e vince alla Grotta dei Desideri poi riesce a trovare anche uno spazio sul mercato. È l'esempio che abbiamo voluto lanciare stasera, due ragazze calabresi che appunto si sono messe insieme, hanno fatto rete, hanno fatto sinergia e attraverso l'uso dei social vendono le loro creazioni. Salvatore Bruno per la Cineus 24. È tutto, l'ETG torna alle 19.30, buon proseguimento.